Ciao ragazzi, come state? Benvenuti in questo nostro nuovo video. Io sono Lorenzo, siamo qui da Motosport Maranello Store e quello che ho preparato per oggi potrebbe davvero interessarvi. Parliamo di un modellino spettacolare, di una vettura che è la regina delle vetture. Parliamo di The Queen, parliamo della F40, l'ultima Ferrari progettata e studiata dal Drake di Maranello, Enzo Ferrari. Allora ragazzi, possiamo notare subito il dettaglio della Teca. Il brand, come avrete capito, si chiama Top Ten e viene proposto anche qui, diciamo, sull'etichetta laterale del case, molto simile a quello dell'Amalgam Fine Models in scala 1.8, modello davvero realizzato in resina con una qualità dei dettagli davvero unica ed incredibile. Rappresenta, come vi dicevo, la Ferrari F40 ed è stata realizzata in due versioni. Una, la versione rossa qui davanti a me e la seconda, proprio lì dietro, in colorazione nera, ma anche in colorazione gialla che ci arriverà a brevissimo e non vedo l'ora di farvela vedere. Qua possiamo subito notare i terminali dello scarico che si vedono molto bene e la griglia vera, ragazzi, davvero ottimamente realizzata. Possiamo notare dei dettagli molto interessanti su questo modellino, ma soprattutto andiamo a scoprire un motore davvero molto ben dettagliato e realizzato. Adesso vado a zoomarvelo, guardate qua, possiamo ammirare tutto all'interno, tutti i dettagli di questo favoloso modello e soprattutto tutte le scanalature, tutti i tubicini che creano questo effetto davvero realistico e davvero bellissimo. Possiamo notare appunto anche tutte le foto incisioni, molto interessante anche questa, con il logo pini in farina che si legge davvero molto dettagliato. Ragazzi, gli interni sono ciò che rende davvero speciale, a mio avviso, questo modellino. Insomma, ragazzi, qui mi ritrovo davvero una bestia impressionante. Guardatela qua, vicino a me. Questa è la versione 1.10 in colorazione nera, ma qui alla mia sinistra anche la versione rossa. Sono molto curioso, scrivete nei commenti, siete dei puristi che amate il rosso e la Ferrari? E chiaramente la F40 in questo caso era stata solamente ed esclusivamente realizzata in colorazione rossa. Quindi voi siete puristi amanti del rosso o accettate anche una Ferrari nera e soprattutto una Ferrari molto importante, cioè la F40. In questo caso le due vetture si presentano davvero benissimo. Come vi dicevo, hanno dei dettagli davvero unici ed epici. Soprattutto possiamo notare i dettagli del motore, che sono davvero pazzeschi. Sono realizzati in maniera maniacale, con dei dettagli veramente belli. Meravigliosa anche la verniciatura, molto lucida e appariscente, realizzati in resina in scala 1 a 10. La versione nera con gli interni in colorazione rossa, ma anche la versione rossa con gli interni in colorazione rossa e gli interni in alcantara, cosa non da poco. È molto ben realizzata, perché Top Ten si differenzia che vuole raggiungere una qualità davvero molto molto eccellente. Prezzo, parliamo anche di questo giustamente, si aggira intorno ai 1.000 euro. Prezzo di lancio ragazzi. Quindi qua troviamo dei modelli davvero eccellenti, davvero spettacolari. Il case molto interessante, perché è un qualcosa di molto interessante e non da trascurare. Il case di Top Ten è davvero curato in tutti i suoi dettagli. È un case bianco che presenta una sua scatola rinforzata in cartone e soprattutto al suo interno come gadget Top Ten vi dà un cofanetto molto bello con all'interno un'agenda, una penna e i guantini con la quale andare a sfiorare e a toccare questo modello o ad aprire semplicemente la teca per vederne tutti i dettagli. La regina è il modellino, forse must have in una collezione, rappresenta la Ferrari? Io penso proprio di sì. Scrivetecelo nei commenti, diteci la vostra. Ci interessa molto anche su questo brand, su questa scala. Per me è davvero interessante e molto bella. E stiamo attenti al futuro perché questo brand e questa scala e soprattutto questa prima uscita come cifre può schizzare alle stelle. Un abbraccio per tante novità, seguiteci ancora, Forza Motorsport, ciao!